Nonostante le polemiche, le contestazioni e le modifiche dell'ultimo minuto, il decreto vaccini entra nella fase decisiva. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la fiducia al provvedimento e dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, inoltre, è arrivato il primo via libera al testo approdato in aula. Ma anche stavolta con alcune novità. La prima riguarda l'istituzione dell'anagrafe vaccinale nazionale. La seconda, un emendamento che prevede la profilassi anche per operatori sanitari, sociosanitari e scolastici. Emendamento questo, però, su cui si attende il parere della Commissione Bilancio. Tra le modifiche già approvate nei giorni scorsi, invece, lo ricordiamo, c'è la riduzione dei vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola, da 12 a 10, per cui l'antimeningococco B e C risultano ora solo consigliati e sempre gratuiti, insieme all'antipneumococco e all'antirotavirus. Dimezzate, inoltre, le sanzioni ai genitori che non vaccinano i propri figli. Da 7.500 euro a 3.000, senza neanche il rischio di perdere la patria potestà. Superato il primo giro di Boa con il via libera di Palazzo Madama, il decreto dovrebbe trovare strada spianata alla Camera. Ma tra gli emendamenti ce ne sarà uno che farà discutere quello che prevede la possibilità per i medici di somministrare i vaccini in farmacia. L'ordine dei camici bianchi è già sul piede di guerra.